E bentrovati a una nuova puntata di Rego Liscio, questa volta per il mese di aprile Iniziamo guardando queste fasi importanti della partita di basket 8-90 e grosso a pagata, vedete con tantissimi lisci che vanno avanti per un sacco di secondi guardate, impennate da una parte e dall'altra Io sarei pronto di guardare cosa accade se fisco di fare i lisci E iniziamo il capitamento con Luci Il libero greco Stefani Dunvalda Violanti Garofolo Inizio Sartonelli-Genzano e subito Marinelli Valle Salustri Balboni Forieri e il suo colpo di testa Braccini e Canali De Santis all'arbitro Lupinski Ergotino Ergotino su esposito Giosta Cisciani Cisciani L'ex CPC Franceschi Cipensa Masi Bezzi Bezzi Lanare Lanare La schiacciacammillette Vittorine Piscini Piscini Ancora Crosta Marinelli cade E Fattoli lo serve lo stesso Di nuovo Salustri Francesco Francesco Diorio Luciani Ancora Ancora Il nuovo acquisto Piscini Il rigore di Catracchia Iengo Spizzico Spizzico E Abfaltene Un fenomeno Marinelli Paolini Paolini La difesa della Margutta E uno E due Peppol Gimbelle E il commento di mister Ugo Frondi Ma la demenza di un paio di ragazzi che abbiamo Non ci ha permesso di Morrison Mancini batte su Stefanini Di Fiandra Il commento del Maguco Io Gesù Cristo non lo so Per cui non so se ci riusciamo Ed ora passiamo ai collonzi di questo vago liscio Tutti della Pada Volo Iniziamo da Martina Arena E poi Francesco Diorio Per cui non so se ci riusciamo